A LECO in arrivo 11 milioni e mezzo di euro per riqualificare la piccola, lungo lago, Villa Manzoni e gli istituti superiori. Sono i fondi stanzati dall'Europa per superare la pandemia. La notte di Capodanno vandali incappucciati hanno manomesso l'illuminare e rotto uno specchio nel centro di Ballabio. Il sindaco fu ribondo, li troveremo e non avranno scampo. A LECO nel 2021 sono nati 2041 bimbi, 7 in più che nel 2020. Per far fronte alla crisi demografica il governo vara l'assegno unico. Buonasera e ben ritrovati in questo 2022 che a LECO si apre nel segno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono in arrivo a LECO 11 milioni e mezzo per riqualificare 4 aree strategiche della nostra città, il lungo lago, Villa Manzoni, la piccola e gli istituti superiori. Il nuovo anno si apre per il Comune di LECO nel segno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il decreto firmato lo scorso 30 dicembre dal Ministero dell'Interno in stretta sinergia con il Ministero dell'Economia e il Ministero delle Infrastrutture assegna alla nostra città 11 milioni e mezzo di euro sul capitolo della rigenerazione urbana. Si tratta di un contributo straordinario che, maturato nella scia degli effetti della pandemia, diventerà un tassello fondamentale per la riqualificazione di 4 aree cittadine. La quota più consistente sono i 6 milioni e 700 mila euro assegnati per i primi lavori di riqualificazione del lungo lago. 400 mila euro invece arriveranno per il rifacimento dell'area esterna degli istituti scolastici Bertacchi e Bovara. Oltre a ciò, 2 milioni e mezzo di euro per interventi di adeguamento e messa norma di Villa Manzoni e infine 2 milioni di euro per il recupero dei magazzini ferroviari nell'ex piccola velocità. Questo 2022 si apre col botto, commenta il sindaco di Recco Mauro Cattinoni. Insieme agli uffici comunali, ai dirigenti, agli assessori e ad altri referenti delle istituzioni locali e nazionali che ringrazio, stiamo lavorando da giugno a questo risultato. Si tratta di progetti strategici, continua il primo cittadino, che contribuiranno non solo a cambiare il volto della nostra città, ma a renderla più funzionale, moderna, attrattiva, al passo coi tempi e coi bisogni dei nostri giovani. Come inizio, conclude il sindaco, non c'è male, ora ci attende un 2022 pieno di cose da fare. Stando alle indiscrezioni, entro la primavera dovrebbero partire i cantieri per le opere previste alla piccola Villa Manzoni. Orizzonte temporale più lungo invece per gli altri due interventi finanziati dalle risorse messe a disposizione dall'Europa per contrastare gli effetti della pandemia. Crescono ma restano al di sotto delle 100 unità i ricoverati all'ospedale Manzoni di Lecco con il coronavirus. Nonostante il picco di contagi degli ultimi giorni, sono 96 pazienti ricoverati al Manzoni, di cui 5 in terapia subintensiva e 8 in terapia intensiva. E la speranza di tutti nel 2022 è lasciarsi alle spalle la pandemia. Ma quali sono gli altri desideri dei lecchesi? Vediamolo nel servizio. Ognuno di noi porta con sé speranze e desideri per l'anno nuovo. Andiamo a scoprire insieme quelle dei lecchesi. Buoni auspici per il 2022, cosa si augura? Che si avverino i sogni di ogni persona. Questo è il desiderio, che in un periodo di pandemia come questo è difficile pronosticare. però dobbiamo metterci tutta la nostra positività. Buoni auspici per il nuovo anno. Speriamo che passi alla svelta a questo. Esatto. Vediamo che finisca velocemente questo e che il prossimo magari incominci un po' meglio di com'è iniziato questo qua. Qualcosa di personale al di là della pandemia, cosa vorreste avere per il 2022? Un po' più di capelli, se riesco. Un po' più di tempo con i miei amici. Insomma, spendo a riuscire sempre in tema pandemia, però quello vorrei. Un pochino più di tempo normale con i miei amici. Che sia un anno buono e migliore degli anni passati che passi la pandemia. La salute per tutti. E poi qualcosa per voi stessi. Qualsiasi cosa che sia positiva. Io lavoro a scuola e quindi che tutto vada bene, che non ci chiudano e che continuiamo a lavorare come stiamo lavorando con i bambini. Qualche progetto lavorativo che vorresti si realizzasse? Sì, c'è un progetto in fase di realizzazione. Vedremo se va bene. Non diciamo niente. Un bocca al lupo. Grazie, crepia. Un auspicio per il nuovo anno. E che passi questa pandemia. Un desiderio di grande serenità per tutti. Il mio auguro è quello che sia un po' meglio del 2021. Perché il 2021 quando c'è la salute c'è tutto. I soldi, quando ci sono, ci sono. E quindi noi a nostra età, cosa vogliamo? Un po' di salute, un po' di serenità e qualche soldo in più non fa male. Eh, non posso dire, è troppo giovane, se no gliela faccio io la proposta. Inconfessabile, no? Ciao! Vandali in azione nella notte di Capodanno a Ballabio. Hanno distrutto l'illuminare e le decorazioni natalizie di Piazzetta Locatelli. Ha battuto un palo con specchio. A denunciare l'accaduto il sindaco Giovanni Bruno Bussola. Sono stati alcuni ragazzi incappucciati, dichiara. Il risultato è che al momento tutta l'illuminazione natalizia di Ballabio inferiore non funziona. Dei gesti non isolati, continua il primo cittadino, che seguono a quelli dell'altra settimana, quando era stato rovinato il pupazzo di neve, di fronte all'asilo. Farò verificare le telecamere. Se si dovessero trovare colpevoli, conclude. Ci sarà tolleranza zero. Cambiamo argomento. Da quest'anno cambiano le modalità di sostegno per i figli a carico. A sostituire tutte le misure precedenti, l'assegno unico e universale. A beneficiarne saranno tutte le famiglie ed è già possibile farne richiesta sul sito dell'Inps. Anche a Lecco migliaia di famiglie si preparano ad una vera e propria rivoluzione. Cambiano le modalità di sostegno per i figli a carico. L'assegno unico e universale sostituisce tutte le misure precedenti, ad eccezione del bonus asilo nido che resta in vigore. Tutte le famiglie possono fare domanda, anche quelle con reddito superiore ai 40.000 euro l'or di annui, o in assenza di ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente. La cifra corrisposta mensilmente va da un minimo di 50 euro mensili a 175 euro. Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi, ragazze e madri, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro e figli affetti da disabilità. In quest'ultimo caso l'assegno sarà corrisposto senza limiti di età, per tutti gli altri fino al compimento dei 21 anni. È prevista in aggiunta una quota per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma che sarebbe stata percepita nel regime precedente. Se la domanda viene fatta tra gennaio e febbraio, l'assegno sarà corrisposto a partire da marzo fino a febbraio 2023. Entro il 30 giugno saranno corrisposti anche gli arretrati dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per le domande consegnate oltre questa data, il beneficio avrà decorrenza a partire dal mese successivo alla richiesta. Accedendo al sito web www.ims.it è già possibile compilare il modulo al servizio assegno unico e universale per i figli a carico, con speed almeno di livello 2, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. È possibile anche contattare il numero verde 803 164 oppure fare domanda tramite enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi. Una timida ripresa delle nascite dopo il primo anno di pandemia che aveva visto un calo significativo. All'ospedale Manzoni sono nati 50 bimbi in più rispetto ai 1502 del 2020. Al Mandic di Merate si contano invece 490 nati rispetto ai 532 dell'anno scorso, complessivamente appena 7 bimbi in più. L'ultima arrivata è stata Nicole Elizabeth Fadda, nata alle 18 a Merate, da mamma Elena Radu e da papà Giuliano Fadda. Dopo neanche 6 ore dallo scoccare del nuovo anno, l'ospedale Manzoni è arrivato il primo bimbo, Gioele, poche ore più tardi al Mandic, nata a Viola Vatteroni, da mamma Francesca Ghezzi e papà Alessandro Vatteroni. A salutare i nuovi arrivati il prevosto di Lecco, Monsignor Davide Milani, con Anna Maria Novielli, Presidente del Comitato di Lecco dell'Unicef e Angelo Fontana della Polisportiva Monte Marenzo. Covid e diminuzione delle nascite vanno di pari passo e così le speranze riposte nel 2022. E cambiamo argomento, un progetto per recuperare il borgo di Camp Sirago, frazione di Colle e Brianza, basato sulla cultura, siglato un innovativo accordo fra l'amministrazione comunale e l'associazione teatrale Camp Sirago Residenza. I lavori sono già partiti. Michele Losi, direttore di Camp Sirago Residenza, il vostro ente insieme al comune di Colle e Brianza, hanno messo a punto un importante progetto per la rinascita di Camp Sirago. Sì, è un progetto molto importante che si chiama Camp Sirago, luogo d'arte. Intendiamo nei prossimi anni rimettere a posto e restaurare conservativamente tutto il territorio del borgo, le strade, le piazze, la chiesa, gli spazi teatrali per renderlo un grande luogo per l'arte, per i cittadini di Colle e Brianza e per i cittadini di tutta la provincia di Lecco. Un luogo in cui sarà possibile venire camminando attraverso i boschi, assistere a uno spettacolo teatrale, fare un'attività laboratoriale e godere di un panorama unico, perché il panorama di Camp Sirago che dà su Montevecchia e poi su Milano è davvero unico in Lombardia, penso. È un progetto molto importante che siamo riusciti a realizzare insieme all'amministrazione comunale di Colle e Brianza, che ci ha molto creduto. È un progetto che ci vede uniti per i prossimi 25 anni a lavorare insieme per fare in modo che questo luogo e questo territorio diventi sempre di più un luogo per la cultura, per l'arte e fruibile nel modo migliore per tutti i suoi cittadini. I lavori di Palazzo Gambassi, che stiamo attualmente ristrutturando, dureranno ancora sei mesi, un anno all'incirca, per arrivare proprio al compimento e quindi avere tutti gli spazi interni adeguati. I lavori sul Comune, il nostro auspicio è fare in modo che entro il 2025 siano completi. In realtà ci siamo dati dei termini un po' più lunghi, perché non è semplicissimo, ma quello è quello che cercheremo di fare. Dagli insediamenti dei Celti fino ai giorni nostri. Il libro La Storia di Lecco ripercorre con le immagini e i documenti storici i momenti e le caratteristiche salienti della nostra città. L'autrice è Marina Morpurgo, che è una milanese che ha scelto di trasferirsi sul lago. Lecco è una città che non ti inganna, la sua natura profonda ti si apre sotto gli occhi al primo sguardo e dove non provvede la natura è l'uomo a mettere l'accento su ciò che conta. Comincia così, Storia di Lecco, dalle origini ai giorni nostri. Il volume è edito lo scorso ottobre da Biblioteca dell'Immagine per la collana Storie delle città. Curioso che l'autrice Marina Morpurgo non sia lecchese, bensì un'ex giornalista milanese traduttrice che ha deciso di dedicarsi alla narrativa per ragazzi e adulti e che appena ha potuto ha lasciato la grande città per trasferirsi a Colico, ai piedi delle amate montagne. Ho sempre pensato che Lecco fosse una città che, che ne pensi nei suoi abitanti, molto affascinante. Io arrivando da fuori ci ho visto delle cose straordinarie. Chiaramente queste montagne che sono particolarmente aspre. E poi c'è questa impronta lasciata da secoli di lavoro. Dalle origini ai giorni nostri, ovvero dagli insediamenti dei Celti documentati con il ritrovamento dei resti di un sito siderurgico ai Piani Derna, datato tra il 260 e il 40 avanti Cristo, è l'inevitabile paragone tra il diffondersi della peste del 600 e la pandemia che stiamo vivendo. Non manca una sezione con immagini ottocentesche concesse dalla quadreria dell'Ottocento di Milano. È un libro divulgativo, più che altro è un racconto. È un racconto e infatti ho usato molto testi di storici ottocenteschi, proprio perché hanno questa lingua molto colorita, sono molto pieni di passione. E ho cercato di tirare fuori le caratteristiche salienti della città dal punto di vista politico, sociale. Ho lavorato molto con il materiale presente nelle biblioteche, poi appunto parlando con le persone del posto che mi hanno aiutato a ricostruire l'atmosfera di anni vicini, però già un po' perduti. Dunque un libro per tutti, per i lecchesi che volessero approfondire la storia della propria città, ma anche per chi non conosce il capoluogo manzoniano. Certo, l'autrice non ha dubbi quando le viene chiesto se consiglierebbe agli amici milanesi di venire a vivere sul lago. Ma certo, basta che non vengano tutti, perché sennò ci troviamo da capo. Questa era la nostra ultima notizia. Prima di salutarci vi ricordo che potete seguire le nostre news su teleunica.com, guardare le trasmissioni e il palinsesso su teleunica.tv e trovare tanti contenuti speciali sui nostri canali social. Grazie per essere stati con noi, buona serata e buon anno. Grazie a tutti.